ciao ragazzi oggi giornata di derby salernitana napoli del di solito tanto sia da salerno lo possiamo dire anche a napoli soprattutto per quello che è la classifica attuale del napoli la serenana per mo zero vittorio speriamo che non è che oggi vuole fare lo scherzetto giusto a noi il napoli che invece ha bisogno per forza di vincere speriamo bene e incrociamolo e iniziate ragazzi forza napoli perché non è bloccato ma perché non è bloccato gli amaci da loro che la valore e non voglio accominciare la mia contro te e non voglio accominciare ma che sarebbe che serve una balla la deviata bravo guarda 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 è sempre l'aspa è sempre l'aspa bravo vai 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 a centro del tiro a centro del tiro a centro del tiro tira tira e quando cazzo hai perso il tempo e appunto hai aperto un bel centro e noi abbiamo approfittato gli altri scheggi e la nata, vede chi è stato qui? vede chi è stato qui? vede chi è stato? vede chi è stato che è combinato? vede chi è stato? guarda là, guarda là ma non hai visto che è combinato con chissà che palla ci ha dato al tiro? mamma mia, mamma mia mamma mia cato! ma che è piato? è stato difensore che è serbrato è fatto un miracolo Shoah finito finito il primo tempo un buon Napoli per 20-25 minuti ma anche una buona salernitana è l'ultimo a tutto però un miracolo di Shoah ha fatto una parata incredibile incredibile la partita 1-0 è sempre aperta la dobbiamo chiudere al secondo tempo forza Napoli iniziato, secondo tempo forza Napoli voglio iniziare è buona non è fuorigioco ma che... macchiamolta te... te ne parli di tirare invece di tirare te ne parli di tirare te ne parli di tirare provaci bravo tira ma nonno ma che cosa è parato? non l'è parato è piato palo è piato palo è piato palo è piato mannaggia non dire manolacchio non dire manolacchio chiamo la polizia ma che parla ma ma che parla ma 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 niente ma non non socially l'unico che non ha da tirare sei tu, l'unico che non è da tirare, sei tu, e chi le ha trecchiato con lui? Arbitro! Ah, li hai cacciato cartellini, io mi pare che te li riscordati a casa! Io mi pare che te li riscordati a casa i cartellini! Dai la subita, eh! A te ne sto morta, a te! A te ne sto morta! Ma perché non te ne vai? Ma anche dove vanno i nuovi contratti? Vatti a me a gennaio! A te ne sto morto! GOOOOOOOL! Hai segnalato a Massa? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ma per me è confuso di lei! Ma è GOOOOOOOL! Polizia ha segnalato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ma per me è segnalato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ma che gana? Riuscite a finire un partito con un clean sheet! Sì! Riuscite a finire un partito per un clean sheet! Che è questo non esso? Oh 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 oh! VOLA! VOLA! VOLA ragazzo! Ragazzo laggiù! VOLA! VOLA! VOLA ragazzo! VOLA ragazzo! VOLA ragazzo! MO CA*****O! Io non... MAGIOOL! NÃO! Ero fuori gioco pure! Ero puoli fuori gioco! Noi sto volando non lo sapete bene, ma... Vabbè, Salernità sarà per l'anno prossimo, anzi, sarà per il giorno del ritorno Maradona. Conto che una partita riesce a vincere contro noi, ma quando io voglio contro noi vende una partita in Serie A. Una partita lei è vero che tu la Serie A l'hai vissi sempre con il binocolo. L'hai sempre vissi con il binocolo, la Serie A. L'hai sempre vissi con il binocolo. L'anno prossimo venite a poter di Avellino e Salernità. E forza Avellino. L'anno prossimo, Avellino e Salernità. E forza Avellino. Vabbè, facci il malato colpo. Facci il malato colpo. L'albero l'hai fischiato, l'hai trattato, ci va capire 10 secondi. E' finita la partita. Una vittoria che ci volevo, perché io direi che è sempre il derby. Allora a lui ci stiamo aspettando. Quindi tre punti per continuare alla rincorsa Champions. Alla rincorsa Champions. Forza. Sì. 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 Sì.